speed art che ho fatto per me, di Mela World e poi partendo da scusate partendo da questa immagine postatemi da un utente di Writers Revolution sono riuscito a ricavare questo con Photoshop e Cinema 4D se volete uno speed art non vi resta che contattarmi inviarmi una mail o semplicemente su Youtube ci vorrà magari un attimo di tempo ma farò il prima possibile grazie mille ciao a tutti